Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. L'aggiornamento con i dati sull'andamento Covid nelle ultime 24 ore. In Veneto tornano a crescere i numeri dei decessi, 52 morti in 24 ore, 1130 nuovi positivi al coronavirus, per un numero totale attuale in regione di 38.667 positivi, 977 in meno rispetto alla giornata di ieri. Prosegue l'aumento dei dati ospedalieri con 16 ricoveri in area non critica che portano a 1.897 i letti occupati, 7 i nuovi ingressi in terapia intensiva dove ci sono 302 pazienti. Il Viminale schiera 70.000 uomini per vigilare sul rispetto delle norme anti-Covid a Pasqua. L'indicazione è agire con quello che il ministro Lamorgese definisce un profondo senso di umanità. Intanto sono saliti a quota 3 milioni gli italiani che sono stati immunizzati con la seconda dose di vaccino. Obbligo di tampone, secondo le ultime notizie, quarantena di cinque giorni per chi rientra in Italia dai paesi dell'Unione Europea. La misura era già prevista per gli stati extra UE. Brillante operazione dei carabinieri a Padova che in poche ore hanno arrestato i due responsabili della rapina compiuta nella casa di una donna 90 padovana. Sentiamo tutti i particolari. Al termine di una rapida indagine durata 48 ore, i carabinieri hanno individuato e fermato i responsabili della rapina compiuta nell'abitazione di una donna di 68 anni a 90 padovana. Si tratta di due pregiudicati ritenuti molto pericolosi. Sono un 38enne di Piove di Sacco e un 48enne di Legnaro. Le indagini sono state avviate subito dopo la richiesta di soccorso giunta dalla vittima con un fax trasmesso alla centrale operativa del comando provinciale di Padova. Alla donna erano stati portati via tutti i telefoni. Drammatiche le fasi della rapina. La donna era stata aggredita e mobilizzata mentre si trovava in casa davanti al televisore. I banditi volevano denaro e gioielli che la signora non aveva. Così, dopo aver rovistato in tutti i locali dell'abitazione, tutto si è concluso con il furto di generi alimentari. Una macchina del caffè, denaro contante per 120 euro e una tessera bancomat della quale con minaccia i malviventi sono riusciti a destorcere alla donna il codice PIN. Poi la fuga con l'auto della padrona di casa. I carabinieri di 90 Padovana intervenuti tempestivamente sul luogo hanno subito acquisito informazioni sulla descrizione degli autori che sono state fondamentali per i militari della stazione che conoscono bene le dinamiche e i soggetti di interesse operativo che frequentano il territorio. Hanno convogliato tutti i sospetti su due individui. Sono state eseguite delle perquisizioni domiciliari, rinvenuti e sequestrati parte della refurtiva e gli abiti indossati durante la rapina. Individuata e restituita alla vittima anche l'auto trovata abbandonata in un parcheggio pubblico a Sant'Angelo di Piove di Sacco. I due indagati sono stati sottoposti alla misura del fermo di indiziato di delitto e associati alla casa circondariale di Rovigo. Il tema dei vaccini è stato al centro della conferenza stampa del presidente della regione Veneto oggi. La speranza principale è che le dosi di vaccino arrivino perché in questo momento stanno tardando. Le priorità sono 430.000 persone circa suddivisi tra 130.000 ottantenni ancora non vaccinati, 130.000 disabili e 200.000 persone che rientrano nelle categorie superfragile. E prossimamente saranno i medici di base a vaccinare e si occuperanno della categoria dei settantenni. Cittadini albanesi che sembravano onesti lavoratori a Venezia. In realtà quelle occupazioni erano solo una copertura d'attività illecite dediti a grossi traffici di droga. Stamane la questura della città lagunare ha arrestato numerose persone con l'operazione denominata Fontego. È scattata alle prime luci dell'alba di martedì un'importante operazione antidroga portata a termine dai poliziotti in servizio alla squadra mobile della questura di Venezia. Le indagini dirette dalla procura distrettuale antimafia di Venezia hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine all'individuazione di un gruppo organizzato che gestiva un traffico e lo spaccio di cocaina destinata al centro storico della città lagunare. Coinvolti i cittadini di nazionalità albanese che agivano con la copertura di un lavoro normale nel capoluogo veneziano. La banda era super organizzata e dotata di strutture e logistiche rigorosamente dedicate allo svolgimento delle attività di distribuzione, appartamenti, autovetture, mezzi di comunicazione. Anche la rete di soggetti, per quanto è stato possibile accertare, sia pure in termini di gravi indizi di colpevolezza, sembrerebbe avere una struttura solida, piramidale e organizzata, suddivisa per compiti e livelli. Nel corso dell'operazione sono state arrestate 13 persone e durante le perquisizioni è stata rinvenuta sostanza stupefacente, tipo cocaina, che è stata sottoposta a sequestro. E la Banca d'Italia oggi ha reso noto alcuni dati che riguardano l'indebitamento delle famiglie italiane. Quasi il 40% degli affittuari, oltre il 30% delle famiglie indebitate, hanno dichiarato di avere difficoltà nel sostenere il pagamento dell'affitto delle rate del debito. Il dato emerge da questa indagine straordinaria della Banca d'Italia sulle famiglie durante la pandemia. Secondo il report, da inizio crisi circa il 15% delle famiglie ha richiesto o pensato di chiedere un prestito per disporre di liquidità. Secondo i dati, inoltre, oltre la metà della popolazione vive in famiglie che dichiarano di non disporre di risorse finanziarie sufficienti a mantenere uno standard minimo di vita per almeno tre mesi in assenza di entrate. E adesso parliamo di un incidente stradale avvenuto questa mattina in via San Giuliano all'angolo con via Bollane. A Campodarsego parliamo di uno scontro violento tra due mezzi. Una persona è rimasta ferita. In provincia di Padova, a Campodarsego, scontro tra un fuoristrada e un'automobile è ferito il conducente della macchina, mentre l'autista del fuoristrada, un pastore che utilizza quel mezzo per badare al pascolo, è rimasto illeso. Sul posto, i pompieri che hanno messo in sicurezza i mezzi. L'autista dell'auto è stato preso in cura dal personale del SUEM da ricostruire la dinamica del sinistro. Da oggi fino al 28 maggio sarà possibile presentare le domande per ottenere il contributo a fondo perduto, così come previsto dal decreto sostegni. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha predisposto da alcuni giorni il provvedimento attuativo. I moduli e le istruzioni sono sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La procedura è semplice. Le domande potranno essere presentate fino al 28 maggio. La richiesta andrà inviata all'Agenzia delle Entrate anche tramite intermediario, sui canali telematici o sulla piattaforma web predisposta da Sogei e disponibile in un'apposita area del sito delle Entrate. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o a scelta irrevocabile del contribuente. Potrà essere utilizzato come credito d'imposta in compensazione. E dobbiamo parlare di un altro incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 a Padova sulla bretella per il casello di Padova Ovest. Vediamo cosa è successo. Incidente stradale a Padova lungo la bretella di accesso all'autostrada 4 Padova Ovest. Il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo della guida e il mezzo si è rovesciato. La causa sembra un'avaria meccanica. Il leso l'autista è venuto fuori autonomamente dalla cabina. I pompieri intervenuti sul posto hanno messo in sicurezza il mezzo tamponando anche una perdita di gasolio. Sul posto la polizia stradale assieme a personale ausiliario dell'autostrada per la bonifica e il recupero del mezzo insieme al soccorso stradale. Uno sguardo alle condizioni climatiche previste. Fino a venerdì le condizioni sul Veneto saranno buone quindi avremo ancora cielo sereno e soleggiato. Poi da venerdì ci saranno dei cambiamenti che poi seguiremo nel suo evolversi. Rimanete con noi tra pochissimo la rubrica a cura dell'Avvocato Emanuele Compagno e subito dopo lo spazio informazione a cura di Talpress 24 con le notizie nazionali, economiche e sportive. Vi auguro una buona serata. Rimanete su Telecittà.